Il programma di Maria De Filippi, nel corso della sua storia, è molto cambiato cercando di stare al passo coi tempi e con le nuove generazioni. Il progetto originario era ben diverso, infatti. L'idea principale era quella di realizzare un talk show tra i giovani per parlare dei problemi a loro più comuni. Il programma di Maria De Filippi, nel corso della sua storia, è molto cambiato cercando di stare al passo coi tempi e con le nuove generazioni. Il progetto originario era ben diverso, infatti. L'idea principale era quella di realizzare un talk show tra i giovani per parlare dei problemi a loro più comuni. Maria De Filippi è sempre stata molto vicina ai giovani talenti entrati ad amici, sia durante la permanenza nella scuola, sia una volta terminata l'esperienza. Purtroppo però, i momenti difficili non mancano per nessuno che triste fine fanno questi ragazzi. E pensare che canta pure bene ha scritto una fan del talent sotto il post Instagram pubblicato da Giuseppe Porro.it e il protagonista del post è Edoardo Boari, meglio conosciuto con il nome d'arte di Aaron, allievo della 22 edime edizione di Amici. Il ragazzo è arrivato fino al serale nella squadra di Rudy Zerbi, e continua ancora adesso a far musica sul suo canale TikTok. Il video ha fatto il giro del web e tutti si sono subito preoccupati per il cantante che durante un firma copie è caduto dal palco facendosi molto male. Aaron è stato subito soccorso dalla Croce Rossa, e ha poi successivamente informato i fan di stare bene.